Una lite nella centralissima piazza Sant'Agostino finita a colpi di forbici al volto. Adesso i carabinieri hanno individuato e denunciato il responsabile. Le indagini infatti sono iniziate la scorsa domenica quando era scoppiato il diverbio tra due uomini nel cuore della città, a seguito di alcuni commenti molesti ad una ragazza. Gli animi si sono così presto accesi e ad un certo punto uno dei due, un trentenne, ha tirato fuori un paio di forbici ed ha colpito al volto l'avversario, provocandogli ferite sulla parte inferiore della faccia e al collo, poi si è dato alla fuga. La vittima, subito soccorsa dai carabinieri e portata all'ospedale Sandonato di Arezzo, dove gli è stata riconosciuta una prognosi di sette giorni, non conosceva il suo aggressore, ma le indagini dei militari, con il supporto dei filmati di videosorveglianza, hanno consentito di individuarlo e rintracciarlo. Si tratta appunto di un trentenne a retino con precedenti di polizia. Adesso dovrà rispondere dei reati di lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.